Grazie a tutti. Sì, sono i primi di play-out. Sì, sono i primi di play-out, 27 punti contro i nostri 42. La palla è rotonda, ragazzi. Forza Bricce Bianca, sarà per la prossima volta. Sì, sono i primi di play-out. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.